Grazie, grazie! Grazie, grazie! Grazie, grazie! Grazie, grazie! Matteo, 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 Matteo! Allora, innanzitutto, grazie, scusate il ritardo, ma a differenza di qualcuno che ha tempo da perdere abbiamo incontrato gli operai della Prismia, gli operai della Emonetics, i camionisti, i marchigiani in difficoltà e quindi se anche qualcuno che è là a far casino andasse di più a lavorare, forse vorrebbe... Perché il problema è questo, un po' di normalità, un po' di lavoro.